Ma questo è un pranzo? Ma questo qua ve l'abbiamo fatto trovare a posto. A posto? Con ricotta di peco, la capra e mucca. Grazie. Questo è praticamente il nostro carissimo maestro pasticciere che ci ha onorato di questo piccolo omaggio per farvi soprattutto assaggiare le nostre preimpatezze. Abbiamo anche una cosa... Abbiamo anche un pollo. Abbiamo anche un pollo. Abbiamo anche un pollo.